otto anni fa lo storico Juventus Roma 3 a 2 deciso dall'arbitro Rocchi e non dai giocatori 1 a 0 1 a 1 1 a 2 2 a 2 3 a 2 Bonucci nel finale tira da fuori area viziato da fuori gioco passivo due rigori fuori area per la Juve anche la Roma però ha avuto i suoi vantaggi ma naturalmente Totti ha sempre naturalmente Totti ha tirato l'acqua al suo mulino in intervista operato di Rocchi che francamente mi ha lasciato parecchio di sasso perché lì ha dimostrato proprio tutta la sua juventinità in sé per sé era la prima Juve di Allegri e la contro la Roma di García nello scontro che poteva decidere un'intera stagione infatti se in caso di vittoria della Roma questa avrebbe ottenuto il primo posto in classifica invece la Juve si impose 3 a 2 e consolidò il proprio primo posto portandosi poi pian piano con il resto del campionato al quarto sculetto di fila però è stata una partita che ha subito tante 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 critiche da parte soprattutto dei tifosi romanisti ed è vero perché insomma quando c'hai un arbitro puramente juventino a decidere una partita allo stadium il risultato è scontato pure se poteva vincere la Roma o finire in parità vabbè insomma oggi sono otto anni che questa partita si è giocata e speriamo di non assistere più a questi scempi